Fiat Chrysler Termoli produrrà i nuovi motori ibridi, lo ha confermato il responsabile territoriale della Wilm, Francesco Guida. Attendiamo al più presto informazioni, ha dichiarato il sindacalista, sull'avvio dei lavori per la produzione dei nuovi propulsori che verranno realizzati a Termoli. Il comitato esecutivo dello stabilimento di Termoli ha annunciato una nuova tornata di cassa integrazione. La Cing è in programma nel reparto cambio e motore 16 valvole dal 17 al 22 giugno per il settore motore V6 e T4 dal 10 al 22 giugno. Il 2019 conferma le nostre previsioni e un anno transitorio e complicato, ha spiegato ancora Guida, caratterizzato dall'uso di altra cassa integrazione ordinaria. Questo a causa di una serie di eventi che non danno chiarezza ai consumatori a concluso nell'acquisto di autovetture. Continua invece il momento positivo per il motore 8 valvole, considerato un riferimento della meccanica e apprezzato dalla clientela. Per Riccardo Mascolo della FIMCISL si può comunque dire che la situazione è quella del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. La sostanziale riduzione di cassa integrazione al motore 8 valvole e al cambio C520 e C546 dà un momento di respiro ai lavoratori, ma continua a preoccupare l'accordo della cassa integrazione nella nuova area motori del T4 e V6, motori moderni e performanti che montano le Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Il 23 maggio è comunque in programma un'assemblea sindacale generale.